ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video per parlare di questo di questa notizia un po' scientifica ma un po' si sapeva il cioccolato fondente è un aiuto contro lo stress e le infiammazioni i ricercatori della loma linda university in california hanno scoperto che il cioccolato fondente con un'alta concentrazione di cacao per un minimo del 70 per cento ha effetti benefici contro lo stress e le infiammazioni lo studio è stato eseguito prendendo in esami cioccolato col 70 per cento di cacao e 30 di zucchero il docente ha appunto dichiarato che la maggiore concentrazione di cacao maggiore l'impatto positivo sulle attività cognitive sulla memoria sull'umore e sul sistema immunitario gli effetti del cioccolato sul corpo umano erano già noti ma questo studio mostra come il cacao stesso agisca sul sistema immunitario e sui geni coinvolti sulla percezione sensoriale sviluppando un'iper elasticità cerebrale ovvero la capacità che ha il cervello di strutturare le relazioni tra i neuroni quindi ragazzi se la prossima volta vedete qualche vostro amico qualche menabelini che vi dice oh mica non mangiare troppo cioccolato oppure non mangiare la cioccolata che fa male in realtà cioccolata col cacao dentro come abbiamo appena letto al 70 per cento fa bene quindi basta con queste palle della serie mosomone lo schifo non lo mangiamo perché ci fa ingrassare non è sulla linea eccetera cavolate anche queste varie università hanno fatto queste ricerche la cioccolata sarebbe un ottimo tocca sana detto quello ci siamo alla prossima notizia che commenterò insieme a voi al prossimo video ciao